Abbiamo finalmente trovato il famoso labello a ciliegia Finalmente erano mesi che lo cercavamo e non l'avevamo mai trovato Finalmente l'abbiamo trovato, eccolo qua Si presenta rosso, vabbè ma penso che tutti lo conoscete Pure per sentito dire, se l'avete visto nei video non lo so Perché è difficile da trovare, qua non si trova Vabbè comunque, sulle mie labbra fa questo colore Vabbè le mie sotto sono tatuate Però, allora, fa questo colore sulle mie labbra Vediamo sulle labbra di Marta che ovviamente non sono tatuate Vediamo se anche sulle sue fa questo effetto rosato Cioè, rosato-rossiccio, vediamo mamma, vediamo Che è? Che ti bruta mamma? Oggi Marta, aspettate, mo, aspettate, mo facciate una cosa Aspetta Vediamo, un attimo Aspetta, l'ho messo sul dente L'ho messo sul dente, vediamo Allora, sulle labbra normali non è che il colore avisa chi è, la verità No Il idrata soltanto Mentre sulle mie che sono tatuate sotto dà un tono di colore Sì Oggi Marta c'è un po' di broncio Adesso volete vedere come le torna il sorriso Marta facciamo la videochiamata a nonno dito Hai visto? Poi ci torna il sorriso Oggi Marta c'è un broncio che non ve lo dico È meteoropatico perché qua piove a dirotto, il cielo è grigio Brutto tempo e lei mette l'opale Sta sempre così Saranno i capelli che stanno un po' con il broncio Non la vedo un po' imbronciota Però il solito torna come? Nominiamo Famosissimo nonno Tito Facciamo la videochiamata a nonno di Tito Saluta, di ciao Ciao Hai visto? Ho trovato il sorriso Hai visto? Ho trovato il sorriso